Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Il satellite ci mostra chiaramente la presenza di una depressione sul nord Africa che richiama tanta nuvolosità ricca di polviscolo sariano, quindi polvere desertica sospesa alle medio-alte quote. Questa polvere sta sorvolando gran parte dell'Europa centro-meridionale e per alcuni tratti si porterà anche al suolo a causa di deboli piovigini sabbiose. In Abruzzo nel corso di questo sabato 19 marzo avremo condizioni di leggera instabilità, ci aspettiamo ancora un po' di nuvi diffuse e soprattutto nelle prime ore della giornata possibilità di piogge molto deboli a ridosso dell'Apenino con fiocchi di neve oltre gli 800-900 metri. Difatti entrerà aria un po' più fredda da est che farà scendere le temperature di qualche grado, massime tra 6 e 12 gradi, minime tra 1 e 6 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.